Sono venuti due parlamentari europei, uno appunto la nostra italiana Eleonora Forense e poi un Miguel di Podemos, quindi dalla Spagna, entrambi i parlamentari europei a portare non solo la solidarietà dei magistri per la manifestazione di sabato, ma anche per dire che ci sono troppe comunanze, molte comunanze in tanti paesi europei che sono strozzati dal debito e quindi loro parteciperanno con noi alla manifestazione del 14 contro il debito. Grazie